Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti nel consueto appuntamento della schedina della 28esima giornata di Serie A 6 su 10 in questa 27esima giornata di Serie A che è passata abbiamo preso 6 partite su 10, non possiamo lamentarci perché la 26esima era andata molto, ma molto male comunque ne abbiamo preso 6 nella 27esima giornata cerchiamo di far meglio in questa 28esima giornata ovviamente per chi è nuovo 1x2 i risultati da poter mettere su tutte e 10 le partite, due doppie disponibili andiamo a vedere cosa metto io, fate la vostra schedina e divertitevi nei commenti mettendo i vostri risultati così a fine giornata possiamo controllare e vedere chi ci ha beccato di più, chi ci ha preso di meno speriamo di prendere almeno 7 su 10 e fare meglio della 27esima giornata non dimenticatevi ovviamente di iscrivervi al canale ragazzi, attivate la campanella delle notifiche se volete restare sintonizzati ogni qualvolta carico un contenuto e poi c'è la playlist con tutte le schedine di tutte le giornate di Serie A fino ad oggi andiamo a vedere gli scontri di questa 28esima giornata con tantissimi scontri che secondo me sono indecifrabili e poco chiari andiamo a vedere cosa metto io e cominciamo Cremonese-Atalanta Cremonese-Atalanta anche se sono un estimatore della Cremonese per quanto riguarda il gioco espresso ma i pochi risultati raccolti l'Atalanta è una macchina da gol e comunque mette in difficoltà o meglio cerca di mettere in difficoltà chiunque il gol lo fa quindi secondo me Cremonese-Atalanta è un 2 senza sì e senza ma Inter-Fiorentina partita difficile perché la Fiorentina sta giocando veramente bene sia in Europa sia in Serie A fuori casa non è la stessa Fiorentina che gioca al Franchi sicuramente però troviamo un Inter altalenante nell'ultimo periodo è una Fiorentina che vedo un tantino più in forma dei nerazzurri soprattutto a livello mentale quindi tra le due non scelgo Inter-Fiorentina X Juventus-Verona Juve-Verona alla Juve affronta un Verona che deve restare aggrappato alla speranza di rimanere in Serie A quindi è un Verona che dovrebbe fare risultato perché altrimenti si allontanano veramente i sogni Serie A dopo l'ennesima partita ha perso malamente lo scontro con la Sampdoria 3-1 nella 27esima non credo che possa esserci il riscatto contro la Juve perché la Juve a livello di risultati sta andando molto bene a livello difensivo a parte il 5-1 con il Napoli comunque è una squadra che prende pochi gol quindi difficile per il Verona Juventus-Verona 1 Bologna-Udinese anche se l'Udinese ha vinto con il Milan sicuramente ha fatto una grandissima partita l'Udinese ma il Milan ha sbagliato qualsiasi cosa a livello difensivo ha vinto la partita 3-1 però il Bologna sta facendo un ottimo campionato Tiago Motta ha fatto un ottimo lavoro gioca discretamente bene do fiducia al Bologna Bologna-Udinese 1 Monza-Lazio 2 2 perché? perché la Lazio soffre le squadre chiuse l'abbiamo visto con il Napoli l'abbiamo sempre visto con il calcio di Sarri perché ovviamente chi si mette è dietro la linea del pallone con tutta la squadra non lascia spazi quindi devi cercare solo l'imbucata che poi va a finire non arriva e finisci la partita in pareggio però credo che la Lazio riesca a vincere con il Monza perché il Monza è una squadra che gioca a viso aperto l'ha fatto con tutti e ha vinto anche con diverse corazzate della Serie A quindi potrebbe uscire la sorpresa nella vittoria del Monza ma io ho fiducia alla Lazio di Sarri Monza-Lazio 2 Spezia-Salernitana Spezia-Salernitana la Salernitana col cambio allenatore da un po' di tempo a questa parte sta giocando decisamente meglio dobbiamo dirlo ha fatto 1-1 col Milan nella ventiseesima nella ventisettesima ha pareggiato col Bologna e il Bologna non è da sottovalutare lo Spezia però dal canto suo può fare il colpaccio quindi io non scelgo tra le due Spezia-Salernitana Roma-Samp Roma-Samp anche se la Sampdoria ha vinto 3-1 lo scontro diretto tra virgolette nelle parti basse della classifica 3-1 contro il Verona non credo riesca a fare risultato all'Olimpico al di là di come giochi la Roma di come giochi la Samp al di là dal punto di vista dal punto di vista tattico credo che la Roma riesca a vincere quindi Roma-Sampdoria Napoli-Milan la prima doppia di questa giornata e adesso arriveranno tutti i pomodori e tutti gli insulti Napoli-Milan X2 prima doppia di questa giornata perché? perché nel gioco delle probabilità il Napoli qualche sconfitta la farà da qui alla fine del campionato ci sono questi tre scontri che comunque psicologicamente sono anomali per quanto riguarda l'affrontare un match credevo speravo diciamo nella vittoria del Milan contro l'Udinese appunto per questo perché se il Milan avesse vinto la partita con l'Udinese il risultato di questa schedina della ventottesima sarebbe stato sicuramente uno X e avrei dato sicuramente la vittoria o al massimo il pareggio la vittoria al Napoli però visto il tracollo del Milan a Udine e subito ci sono state quasi subito le dichiarazioni comunque di Pioli addette ai lavori che si cambierà e si tornerà la difesa a 4 ritroveremo quasi secondo me la stessa partita dell'andata con lo stesso modulo a parte chi giochi e chi non giochi troveremo di nuovo un Milan con una difesa a 4 che non credo lasci troppo spazio e possa finire ingoleata per il Napoli quindi metto questa doppia anomala X2 sperando ovviamente di perderla questa partita cioè nel senso di perdere la schedina per questa partita però non mi fido né di Pioli né del Milan perché troveremo un Milan completamente diverso sia dal punto di vista mentale e sia dal punto di vista tattico anche perché c'è stata la sosta del nazionale c'è stato tempo per poter lavorare dal punto di vista tattico per Pioli Empoli-Lecce Empoli-Lecce 1 perché l'Empoli a livello territoriale mette sotto pressione un bel po' di squadre a volte riesce a portare i tre punti a casa a volte meno però a livello di gioco espresso riesce ad arrivare sotto porta anche con una discreta facilità il Lecce mi piace come gioca ci sono giocatori per i quali impazzisco tipo strefezza ma a parte strefezza è proprio un Lecce che gioca è un calcio frizzante però non credo che il Lecce riesca a fare risultato ad Empoli quindi Empoli-Lecce 1 Sassuolo-Torino Sassuolo-Torino seconda doppia ed ultima di questa giornata 1x Juric sa imbrigliare tutte le partite qualsiasi squadra gli si presenti contro però il Sassuolo dopo il girone di andata da gennaio in avanti ha cominciato a giocare a calcio Dionisi mi è sempre piaciuto come allenatore credo che in casa comunque il Sassuolo possa fare risultato però ci copriamo con la doppia 1x molto semplice questa 2 4, 6, 8, 10 partite 2 doppie ragazzi fatemi sapere la vostra nei commenti fate la vostra schedina e divertitevi se vi va così controlliamo poi se ci abbiamo preso o meno chi ci ha preso di più chi ci ha preso di meno ci vediamo nel prossimo video bentornata alla serie A dopo la sosta della nazionale e buona giornata a tutti ciao